Qualiano, Castellammare, Ottaviano e Nola continua la strage degli incidenti mortali nel territorio della provincia di Napoli. Quattro vittime in una settimana, un bilancio horror. L'ultimo tragico incidente in ordine di tempo, quello che si è verificato a Qualiano nella notte tra il 5 e il 6 agosto, dove i carabinieri della locale stazione intorno a Luna sono intervenuti in via circunvalazione esterna all'altezza della rotonda, dove si trova il comando della Guardia di Finanza. Per un sinistro che è costato la vita al 41 annunzio Gelsomino. Gelsomino, alla guida di una Volkswagen Polo, ha perso il controllo dell'auto, impattando sullo spartitraffico, un tratto di strada già oggetto di numerose critiche negli anni. Dopo essere impattata sullo spartitraffico, l'auto con a bordo l'uomo deceduto sul colpo e una donna di 37 anni, poi ricoverata all'ospedale di Pozzuoli, si è ribaltata per poi attraversare la rotonda, terminando la corsa contro un cancello di un'abitazione. Altro incidente a Castellammare che ha stroncato la vita del ventottenne Domenico Autiero, un rider, uno sconto frontale fatale tra il suo scooter e un'auto. Sulla trafficata statale sorrentina, Autiero stava ritornando a casa dopo una consegna nella zona. E poi Orazio Oriundo, un ragazzo di 19 anni, intorno alle 2 di notte il giovane si trovava in sella al suo scooter e stava percorrendo via Cesare Ottaviano Augusto nel comune di Ottaviano. Per causa ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo a due ruote e ha impattato violentemente contro l'isola sparti traffico. Padre dei cinque figli a trovare la morte nello scontro tra due furgoni avvenuto sull'autostrada 1 nel Nolano, il 43enne Gaetano Pascariello rimasto incastrato tra le lamiere e poi stato liberato dai vigili del fuoco. Il suo corpo era però senza vita.